signori e signori trasmettiamo da tele radio cinghiale la prima emittente ecologica semi ecologica perché comunque inguiniamo anche noi questo è un fiume che scorre sotto il ponte petrini ci troviamo nel comune di ruzzi oggi è l'11 di marzo 2010 ovviamente come potete vedere c'è una grossa quantità di acqua molto fangosa dobbiamo dire che scende a valle non credo che questo possa essere il fiume crati ma mi devo documentare un po meglio fra poco avremo anche un ampia panorama nel caso fiume crati nel nostro secondo servizio questo praticamente è un fiume che attraversa la valle crati dovrebbe essere anche questo un affluente del crati oggi documenteremo un po di flussi acque in giro per vedere un attimo la situazione che è già molto precaria come potete vedere c'è un flusso d'acqua molto forte c'è già una grossa quantità di acqua che scorre in questo fiume come potete ben vedere e continua a piovere sono circa le 14 e 30 delle dell'11 di marzo 2010 noi ci sentiremo dopo per fare una panoramica della situazione sul fiume crati chiaramente Grazie.